Cicciuli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz. Vi ricordate il video che avevo fatto su Reshade tempo fa? L'ho trovata anche sotto in descrizione, ma oggi volevo utilizzare Reshade su Total War ROM 2 con la dividetimpera nella nostra campagna di Cleopatra al posto di GMFX e in questo video volevo farvi vedere quali erano le differenze, come scaricare Reshade e come impostare il preset che utilizzo io in campagna. Bando alle ciance, sigla e poi andiamo a vedere tutto quanto. Yes! Allora, 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 chi di voi gioca a ROM 2 e ha provato tutte le varie mod possibili e immaginabili avrà sicuramente notato come, ad esempio, individetimpera, e lo possiamo vedere dai mantelli, ad esempio, di queste unità, come già le texture siano state parecchio migliorate rispetto alla versione vanilla. Ma, ma, si può fare ancora di più e lo si può fare andando a lavorare sulla gamma dei colori e sugli effetti di luce perché, ebbene, qualsiasi dettaglio che viene messo in risalto viene fatto grazie alla luce. Reshade agisce proprio su questi parametri, va ad applicare dei filtri esaltando, ad esempio, non so, i contrasti piuttosto che la luminosità, mettendo, per l'appunto, in risalto dei dettagli con dei loot grafici che possono sicuramente migliorare la vostra esperienza di gioco. Procediamo per ordine. Allora, per chi volesse approfondire il discorso su Reshade, come già detto, andate a rivedervi il video che avevo già fatto in precedenza. Sotto in descrizione trovate il link. Chi invece vuole andare direttamente al sodo, ed è questo, peraltro, il topic del video, deve semplicemente guardare in descrizione a questo video, oppure anche sotto i video di Cleopatra, c'è un link di Mega che è il mio cloud. Vedete qua, scarica il preset che utilizzo in campagna per Reshade qui. Ed è questo qua. Allora, io ho lasciato sia il link e poi vi ho aggiunto anche la chiave, perché può essere che vi chieda la chiave per accedere al file. Cliccate sul link, vi reindirizzerà al cloud, e qui troverete, vedete, ad esempio, il nostro preset. Eccolo qua. Voi andate fino in fondo, sono questi due. Questi due qua sono i preset che utilizzo io. Per comodità, ragazzi, io nella cartella Reshade vi ho messo anche l'installer del programma stesso, così con un download avete tutto quanto. Quello che dovete fare, ragazzi, è, tasto destro, vedete qua a sinistra dove c'è scritto il gestore dei file, e fare scarica. Download standard, non è necessario scaricarlo come zip, io vi ho già zippato tutto quanto. Cinematic Reshade ROM 2, e andate a scaricarvi tutto quanto. Perfetto. Una volta scaricato il tutto, ragazzuoli, andate ad avviare il Reshade Setup. Come potete ben vedere, la prima schermata che vi mostra è quella relativa a tutti i giochi e programmi che voi avete installato nel computer. Ebbene sì, Reshade si può installare su tutti i giochi, non solamente su ROM 2. In questo caso noi abbiamo bisogno di ROM 2, qui vedete c'è anche City Skylines ad esempio, andiamo a prenderci il nostro ROM 2, dove diavolo è ROM 2, Total War ROM 2, lo selezionate, qua vi trova già automaticamente la cartella, quindi non dovete andare ad inserire nessun percorso file, non potete sbagliarvi, andate su Next, e qua vi chiederà il rendering API Total War da utilizzare. Allora, Total War ROM 2 utilizza le DirectX 10 e 11, quindi quello che voi dovete andare a fare qua è selezionare Microsoft DirectX 10 e fare Next. Allora, in questo caso, io adesso interromperò l'installazione perché l'ho già installato, ma voi dovete fare semplicemente Modify oppure Install, e andare avanti e seguire tutto quanto il processo. Una volta fatto questo, ragazzi, andate a prendervi i file che vi siete scaricati dei Preset Reshade. Io per praticità, ragazzi, ho creato una cartella che si chiama proprio Preset Reshade. Allora, facciamo una roba del genere. Eccola qua. Questo qua, così abbiamo soltanto i due che ci servono perché andate a sovrascrivere quelli che già avevo nella cartella. Ecco, questi qui sono praticamente i due che abbiamo scaricato. Sono due filtri. Uno è il cinematico, l'altro è quello che utilizzo in gioco. Perché sono due filtri diversi? Perché quando magari devo andare a registrare dei machine, vado a lavorare magari sul cinematico, ritoccando a seconda dello scenario. Perché, ragazzi, le luci, se voi, non so, state combattendo una battaglia d'estate, nel deserto, piuttosto che in autunno o in inverno, nelle foreste della Germania, le luci cambiano. E quindi ci sono dei parametri da andare a ritoccare. Ma quello che voglio farvi vedere oggi è il preset che utilizzo in gioco. Perché è veramente semplicissimo. E l'effetto rispetto al vanilla è garantito. Ritorniamo in gioco, ragazzi. Quella che state vedendo voi adesso, raga, è il gioco così com'è. Senza Reshade applicato. Una volta che il vostro Reshade è installato, la prima volta che avvierete il gioco, comparirà un pannellino in alto a sinistra. Voi seguite passo passo quello che vi viene detto. E poi dopo vi spiego io che cosa dovete fare. Allora, per aprire il menu di Reshade quando siete in gioco, voi dovete schiacciare il tasto inizio. Vedete? E si aprirà questo pannellino qui sopra. Come potete ben vedere. Quello che dovete andare a fare voi è cliccare qua sopra, andare a cercarvi quello che è il vostro, la vostra cartella dove avete salvato i due preset. Io, come ho già detto, ho creato la cartella Preset Reshade. E vedete? Qua ci fa vedere tutti e due i nostri preset. Io andrò ad aprire Dictator Preset ROM 2, Select, e voilà. E vedete già come cambia tutto, ragazzi. Le luci. Con ins togliete il tutto. E vedete come l'effetto dei contrasti mette comunque in risalto anche delle luci. Quelli che sono tutti i dettagli sulle armature. Dando comunque una sensazione. Guardate anche i raggi come vengono messi in evidenza. Questo migliora decisamente tutto. Adesso vi faccio vedere l'erba perché questa qui va proprio molto a gusti. Va molto a gusti. Io personalmente lo tengo attivato. Che è il filtro di Creative Assembly. E lo vedete qua. È l'oberation cromatica utilizzata da Creative Assembly. Se voi la attivate, vi va a ritoccare i colori e le sfumature sulla vegetazione. Mi raccomando. Voi potete provare un sacco di effetti. Vedete, qua c'è... Potete davvero sbizzarrirvi. Io vi ho dato il mio preset, ad esempio. C'è anche il monocromatico. Mettete che, non so, volete registrare un video in bianco e nero. E volete farlo direttamente dal gioco senza dover applicare un effetto che poi dopo magari vi va ad appesantire e ad allungare il rendering quando andate ad editarlo. Perfetto. Il bianco e nero ce l'avete assolutamente in gioco e lo catturate direttamente dalla registrazione. Adesso tolgo il... Come si chiama? Il monocromatico. La cosa importante... La cosa importante è che se voi andate ad aggiungere un effetto poi dopo cliccate Active to Top. Allora, non è necessario se utilizzate il mio preset perché sono già ordinati nel modo corrente. Ma ad esempio, adesso vogliamo attivare CA cliccate su Active to Top e vedete? E lui ve lo porta automaticamente in alto. Io vi dico, ragazzi, vi dico, vi cambia l'esperienza di gioco. Quindi provate. Provate anche altri effetti perché non è detto che il preset che utilizzo io sia quello che poi magari a voi vi aggrada di più. Ma guardatela questa immagine, ragazzi. Guardate quanto diventano fighi. Cioè, sulle luci... Sulle luci è devastante. Adesso vi faccio vedere anche, magari, non so, sugli edifici. E vedete, al di là di tutto quell'effetto blur terrificante che faceva la Gemfx, questo qua va veramente a migliorare. Tra l'altro, questo qua, ragazzi, guarda che bello. Guardate, guardate i dettagli, i dettagli sul basso rilievo del timpano. Guardate qua. Pazzesco, eh. Cioè, c'è, dà proprio il senso, dà proprio il senso della profondità del basso rilievo. È veramente, veramente figo. Io spero, spero che voi possiate abusare di Reshade. Provatelo anche su altri giochi. Io l'ho provato su City Skylines e devo dire che è tanta, tanta roba. Un altro parametro, e questa volta non dipende dalla mod, cioè non dipende da Reshade, ma dipende dalle impostazioni di gioco, che vi consiglio di andare a ritoccare, è ovviamente la luminosità e la gamma di colore. Vedete qua? Qui potete andare a modificare la gamma e la luminosità. Se vi piace, non so, un loot più scuro, con un contrasto maggiore, giocateci, ragazzi. Non c'è una regola definitiva. C'è semplicemente ciò che vi piace di più e ciò che vi piace di meno. A me personalmente piacciono in alcune situazioni le tonalità più accese, con un contrasto maggiore. Altre volte, un, come dire, colori meno accesi, un po' più attenuati, un po' più soffusi, non lo so, perché in certe situazioni mi porta alla mente quel Technicolor utile, che tra l'altro c'è il Technicolor come effetto, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Con quei colori un po' cinematografici degli anni 60 nei grandi Colossal, alla Benur, ci sono, vedi, questo qua addirittura accende, questo è terrificante, ragazzi. Questo qui potrebbe, potrebbe avere un senso. Insomma, ci dovete, ci dovete veramente giocare. Non è difficile? Non combinate disastri, perché tanto non potete combinare disastri, non è che se sbagliate qualche settaggio, oddio, distruggo il combino, no, assolutamente no. Non cambia, assolutamente niente. Un'altra cosa interessante che vi permette di vedere quanto questo programma incide sulle prestazioni del vostro computer è il pannello statistiche. Se voi andate sulle statistiche vedete in tempo reale questo vi dice il refresh dei frame in millisecondi, vi dice il post processing in millisecondi sulla scheda grafica e vi dice anche quanti FPS state facendo in questo determinato momento. Io in questo momento sono in 4K, vi ricordo che ROM 2 è upscalato al 4K, quindi se volete proprio esploitarlo al massimo dal punto di vista della qualità grafica io vi consiglio di giocarlo in 2K qualora possiate, se no il 1080p va comunque bene, dipende anche tanto dal monitor che avete. Detto questo ragazzi, considerazioni finali, secondo me questo qui è un programma come già dissi nel video che feci in precedenza estremamente interessante e che un videogiocatore dovrebbe sempre avere a disposizione perché tante volte andare a modificare il loot grafico mentre si gioca dà la possibilità al giocatore stesso di avere un livello di customizzazione next level, cioè proprio, scusate il gioco di parole, ma lo fate come piace a voi. Quindi, detto questo, io spero che questo breve video vi sia piaciuto, vi abbia interessato, se trusciate e magari vi salta fuori qualche preset estremamente interessante mi raccomando scrivetemelo sotto nei commenti perché magari lo proviamo anche in live, non si sa mai. Io ho provato un sacco di preset su Reshade e mi sono piaciuti, alcuni mi sono piaciuti molto, ce ne sono alcuni che sono più adatti magari per registrare i gameplay per chi magari come sottoscritto fa dei video su YouTube o robe del genere, ecco, quando si trova un preset che rende molto a livello grafico durante una cinematica è figo, anche perché sono fatti bene gli effetti su Reshade. Altri invece che sono diciamo ideali in gioco, vi faccio un esempio, War Thunder, no? O se no comunque uno sparatutto, un videogioco fps, laddove la grafica può migliorare con un determinato preset, lo stesso preset potrebbe in qualche modo mettere in difficoltà i vostri occhi, cioè affaticare i vostri occhi perché, non so, il contrasto elevato, la bassa luminosità mette sì in risalto le ombre ma non vi permette di vedere immediatamente quello che è il nemico al quale dovete sparare ecco e Reshade funziona anche nel senso opposto, nel senso ci sono dei loot che facilitano questa cosa magari andando a diminuire determinate tonalità insomma facilitano la vista anche a chi gioca negli FPS. Ogni situazione ha il suo preset ideale trusciate smanettateci perché tanto non potete fare danni il programma è completamente gratuito sotto in descrizione trovate il link dove c'è dentro sia il preset che uso io sia il filtro cinematico e sia anche lo stesso Reshade quindi cliccate se il video vi è piaciuto mi raccomando ragazzi lasciateci un like e nei commenti come già detto fatemi sapere se l'avete provato che preset utilizzate se vi piace il preset che utilizzo io nella campagna di Cleopatra e noi ci vediamo in game ragazzi ciao belli